Continua senza soste l'azione di riqualificazione del Waterfront di Gaeta che rigade sotto la giurisdizione dell'autorità di sistema portuale del martirreno centro-settentrionale. Finalizzati a restituire ulteriori valore ad un tratto di costa cittadina in termini di potenzialità turistica e di rivalutazione paesaggistica e territoriale, sono stati ultimati negli ultimi giorni gli interventi per la posa in opera di un innovativo impianto di pubblica illuminazione con lampede led. Sarà migliorata dunque la pubblica illuminazione di via lungomare Caboto nel tratto che va dalla chiesa di San Carlo nel quartiere della Piaia sino all'altezza dell'ufficio postale di piazza Carlo V. L'ex autorità portuale del Lazio ha eseguito l'opera con un finanziamento proprio di circa 580 mila euro lungo i quasi tre chilometri del tratto iniziale di via lungomare Caboto. La scelta delle lampade led è stata motivata per garantire una maggiore luminosità di questo ampio tratto del lungomare cittadino anche dopo un notevole lasso temporale e per ottenere un importante risparmio energetico nell'ambito di una provata attenzione dell'ente a difesa dell'ambiente in cui si opera. E grazie a fondi europei per un importo di 350 mila euro l'autorità di sistema portuale del martirreno centosettentrionale ha ultimato gli interventi di pulizia dei fondali della darsena della peschiera, di messa in sicurezza dei durmeggi a servizio della marineria di Gaeta e degli altri sceni del golfo, di installazione di un sistema di video sorveglianza e della posa in opera di una condotta idrica ad uso dei pescatori per la sistemazione e pulizia delle proprie imbarcazioni. La storicità della darsena dei pescatori per la sua valenza a favore di questo rinomato settore economico di Gaeta sarà perseguita anche attraverso la rigenerazione della pavimentazione della banchina di riva con la riproposizione del basolato lavico che caratterizzava questo scorcio di Gaeta nel corso del XIX secolo.